Benvenuti oggi in questo nuovo video, scusate davvero per ritardo ma questo tempo comunque mi è servito per inventare e portarvi una nuova tipologia di video che andremo a vedere oggi che saranno un po' simili alla guida alla cura che abbiamo visto a volte nel canale dove andiamo a parlare quindi della gestione di una specifica specie di pappagallo in questo caso sarà più un cosa ne penso io perché la guida alla cura sono video molto dettagliati e spesso preferisco portare anche un ospite che ha avuto un'esperienza diretta con quel pappagallo se io non ne ho mai posseduto uno e già è difficile trovare il tempo per me di registrare, fare un video, figuriamoci il mettersi d'accordo con altre persone è complicato e in questo periodo davvero non riesco a farli però voglio portarvi il mio parere perché molto spesso mi chiedete cosa ne pensi di questo pappagallo cosa ne pensi di quest'altro quindi questa tipologia di video serve per comunque indirizzarvi nella scelta corretta che io la reputo una cosa importantissima per evitare poi complicazioni e situazioni spiacevoli quindi questo vi potrà servire per avere un'idea generale una piccola infarinatura sul carattere sul comportamento del pappagallo in questione quindi ci saranno sia aspetti soggettivi personali quindi cosa ne penso del lato magari estetico se è un pappagallo con cui io mi troverai bene e quindi di conseguenza se ve lo consiglio o meno e poi andremo a vedere qualche caratteristica e un po' del comportamento che questo pappagallo ha in cattività naturalmente vi ricordo che ogni pappagallo poi di per sé ogni esemplare ha la sua personalità quindi diamo una caratteristica generale del comportamento perché non possiamo andare a vedere ogni esemplare di per sé che sarebbe impossibile quindi diamo delle caratteristiche generali e naturalmente il vostro pappagallo potrebbe essere un po' diverso ecco questo non si può prevedere però noi diciamo tendenzialmente come stanno le cose quindi detto questo abbiamo parlato anche troppo andiamo al video di oggi e spero che questa nuova tipologia vi possa piacere e possa essere interessante bene quindi oggi partiamo alla grande con il cosa ne penso dell'amazzone fronte azzurra o fronte blu beh che dire è un pappagallo veramente fantastico uno dei miei preferiti in assoluto quindi un pappagallo che sicuramente se avessi la possibilità prenderei come proprio mio animale pet quindi capite che mi piace molto a me personalmente quindi andiamo a vedere un po' di lati positivi e negativi di questo pappagallo e vi dirò poi anche qualche considerazione personale allora è un pappagallo fantastico se nelle mani di una persona che ha avuto già esperienza con altri pappagalli e quindi nelle mani di una persona che sa come muoversi in questo mondo perché sì ha tante qualità ma queste qualità vanno coltivate il pappagallo necessita di tante attenzioni e sicuramente non è tra i più semplici da gestire però ci arriviamo iniziamo un po' con i lati positivi allora è sicuramente un pappagallo bellissimo almeno per me quindi questo è molto soggettivo però a me piace tantissimo questa colorazione che va dal verde all'azzurro al giallo quindi è veramente bello altra qualità molto importante è un pappagallo molto molto intelligente quindi non avrà problemi nell'addestramento quindi potrà imparare tantissime cose molto facilmente sono pappagalli molto svegli che hanno voglia proprio di imparare perfetti per tutti coloro che amano l'addestramento cosa che consiglio di fare a tutti però c'è chi li piace particolarmente come a me poi si tratta anche di un ottimo parlatore quindi un pappagallo che può imparare tante parole io non la considero una qualità molto importante almeno per me però so che a tanti di voi piace però il mio consiglio è quello di non metterla come priorità nella scelta ci sono tante altre qualità più importanti prima del fatto che il pappagallo sappia parlare o no perché poi c'è il rischio di trovarsi con quella come unica nota positiva poi un pappagallo magari completamente diverso da noi e che non è diciamo alla nostra portata ecco in questo caso è un pappagallo molto complesso e prenderlo soltanto perché è un ottimo parlatore è proprio il modo per rovinare tutto ecco questo è un piccolo consiglio veniamo però adesso a lati negativi anche se dire negativi è un po' un'esagerazione si è detto che è un pappagallo molto intelligente questa intelligenza naturalmente va coltivata come si diceva prima come tutte le qualità e questo naturalmente necessita di tempo di tanta interazione tra pappagallo e noi di conseguenza se decidiamo di prendere questo pappagallo dobbiamo avere del tempo, tanto tempo da dedicargli e creare un ambiente il più stimolante possibile sia quando è fuori dalla gabbia con noi sia all'interno della gabbia quindi di conseguenza questa cosa porta costi molto elevati sia il pappagallo in sé che comunque sotto i 700 euro è difficile trovarli e poi vi ricordo il prezzo iniziale è niente in confronto poi al prezzo di tutto quello che viene dopo per il resto della sua vita che comunque si tratta di pappagalli anche in questo caso molto longevi quindi costi elevati per la gabbia che naturalmente deve essere spaziosa trattandosi di un pappagallo di medie e grandi dimensioni e tutti i giochi, intrattenimento costano e quindi di conseguenza il prezzo è elevato è un pappagallo poi che con la maturità sessuale potrebbe cambiare un po' il suo atteggiamento l'amazone fronte azzura diciamo che è molto suscettibile a questo passaggio dall'età giovanile all'età adulta e nei periodi ormonali potrebbe essere difficile da gestire quindi potrebbe sfociare un po' un qualche momento di aggressività e naturalmente una persona non esperta quindi non in grado di gestire questa situazione potrebbe far peggiorare la cosa vi ripeto questo può succedere con l'amazone fronte azzurra con un pappagallo del Senegal, con una calopsite tutti i pappagalli ne risentono c'è chi più, c'è chi meno un altro lato diciamo negativo dell'amazone fronte azzurra è che con la maturità sessuale specialmente potrebbe legarsi principalmente ad una persona e quindi manifestare un comportamento un po' morboso e di gelosia appunto verso quella determinata persona quindi episodi di aggressività magari verso gli altri quindi un comportamento un po' difficile da gestire come si diceva prima quindi molto importante diciamo farlo socializzare con tutti i membri della famiglia per evitare il più possibile questo comportamento un altro lato negativo è che si tratta di pappagalli estremamente rumorosi grandi parlatori ma anche grandi urlatori ebbene sì, questo potrebbe portare grossi problemi se abitati in un condominio oppure se abitate comunque in un contesto in cui ci sono altre persone cui potrebbe dare fastidio anche in questo caso naturalmente stateci attenti perché sono pappagalli che possono venire molto rumorosi bene detto questo abbiamo dato un'infarinatura generale su questo pappagallo considerazioni finali è un pappagallo veramente fantastico quindi con potenzialità incredibili nelle mani giuste verrà un pappagallo spettacolare che sicuramente consiglio a tutti coloro che sono pronti per questo percorso se siete neofiti attualmente non ve lo consiglio affatto ci sono tanti altri pappagalli ho fatto dei video a riguardo su quale pappagallo scegliere per iniziare sono tutti pappagalli quindi che diciamo sono più semplici da gestire ecco se dobbiamo fare una scava di difficoltà tra difficoltà facile, media, alta e super alta ecco la mazza di fronte azzurra si troverebbe a difficoltà alta quindi non il massimo massimo ma comunque quasi difficoltà massima bene detto questo spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che possa esservi utile per fare una scelta più giusta possibile del vostro pappagallo io come sempre vi lascio tutto qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video e ciao a tutti